Nuovo appuntamento con Baschettando, siamo qui a Lautarona, nella zona dedicata a Volkswagen, insieme a noi Fabrizio Lorenzi, General Manager della Mami, in clima natalizio, in abito natalizio, in abito Mami, punto di domanda? Entrambi, bianco rosso entrambi, sia il Natale che la Mami. O forse più da paglio di Siena, o da paglio di asti quello degli asini, cosa dici? Sì, tutto, vale tutto. Contento, quindi fa le battute perché ha ottenuto con la sua squadra una vittoria importante, insieme a noi, insieme a Fabrizio, Diego Terenzi, ciao Diego. Ciao a tutti. E Eros Biagioli, ciao Eros. Ciao a tutti. Un pochettino invece di rammarico da questa parte alla mia sinistra, perché girano un pochettino le scatole per questo epilogo, una partita che sembrava vinta, è vero che nel basket, finché non senti il suono della sirena, non è mai finito nulla, purtroppo questo detto è andato contro la Paffoni questa volta. Beh sì, diciamo che girano abbastanza, visto che l'ultimo quarto proprio abbiamo dominato, secondo me abbiamo dominato e poi ovviamente un po' di scelte negli ultimi minuti, soprattutto per quella tripla lì di Vosquil che ci ha veramente tagliato le gambe, ci ha portato poi l'overtime che nonostante i problemi che abbiamo avuto, che Giannuzzi è uscito per cinque falli, ci ha condizionato tanto e quindi alla fine hanno parato a casa loro e dispiace tanto. Ecco, Eros, da una partita così è più il rammarico, più la rabbia, più l'energia che poi si trasmette, immagino, fin da subito negli allenamenti per voltare pagina e per riprendersi quella vittoria così sfumata? Beh, naturalmente il rammarico di aver sferato la vittoria c'è sempre. Naturalmente deve essere un punto di partenza per ripartire nella settimana in vista dei prossimi due incontri casalinghi che sono molto importanti ora per noi. L'importante è vincere tutte e due le partite. Faccio l'avvocato del dialogo, diavolo, e coinvolgo tutti e tre. È la seconda sconfitta in volata, no? Contro Scafati, con quel passi che tanto ha fatto recriminare, sanzionato a Smith, e questa. Due indizi, non fanno ancora una prova, speriamo che non arrivi il terzo, però ti chiedo, questo cosa significa? Che manca un pochettino di esperienza? Manca il giocatore magari deputato a prendersi determinate responsabilità nei finali punto a punto? Chiedo a tutte e tre? Ma può darsi. Ti posso dire solo che questa squadra è molto giovane, è stata costruita con questo obiettivo di far crescere dei ragazzi in questa categoria. Probabilmente possiamo pagare un po' di esperienza sul campo, ma oggi quello che si vede, che questa grossa differenza magari poteva esserci all'inizio, sembra che la stiamo colmando, ce la stiamo giocando con tutti. Poi sì, magari quel pizzico di esperienza in più serve, però non ci dobbiamo far demolarizzare da questo e andare avanti con il lavoro. Diego e poi Fabrizio. Beh, anch'io più o meno la penso come ero, anzi, pienamente la penso come lui. E' vero che siamo una squadra giovane, poi proprio oggi in palestra parlavamo di questo fatto che ci serve un giocatore che magari negli ultimi minuti si prenda la palla e non dico ci porti la vittoria, ma anzi magari. E perlomeno o ci affidiamo all'americano che in questo momento non è nel 100% o un, non so, un senior o un esperto che potrebbe essere guarito. Allora, dopo andiamo su quello che hai detto perché è uno spunto di riflessione interessante perché ci hai detto quello che sei stato detto nello spogliatoio, è una quasi rivelazione da tua. Fabrizio? Sì, più o meno lo stesso pensiero di Eros, comunque la dose di sfortuna è parecchia perché comunque il tiro di Vosquil deve entrare e con Scafati dopo il passi comunque fischiato Scafati comunque deve segnare perché il punteggio era pari, quindi diciamo che è un mix di tutto quello che è stato detto da Eros, però c'è anche una dose di sfortuna che fa la differenza. Diego, allora Eros, sulla frase che hai detto, hai detto che questa mattina nello spogliatoio si è parlato anche di questo. In palestra. In palestra, sì perché avete fatto pesi questa mattina. In palestra si è parlato di questo, cioè la squadra è consapevole, auspica che forse magari un inserimento di un giocatore con determinate caratteristiche sarebbe importante allora? Beh, sì, diciamo che è noto, cioè ormai si vede, nelle ultime partite la palla secondo me dovrebbe andare, come ho detto prima, l'americano o un senior, un esperto, però intanto ormai siamo questa la squadra, non ci si può fare niente. Non ci si può fare niente e non è vero. Beh, però non ci può fare niente, sì, è vero, non è vero, però... Diciamo che qui si è salvato in corner, Eros, qui si è salvato in corner. Naturalmente sono punti di vista, il nostro lavoro è cercare di tirar fuori il meglio possibile da questa squadra, dal materiale umano che abbiamo e non fossilizzarci sulla necessità di dover cambiare per forza. Sarà poi la società, insieme all'allenatore, a decidere se ci sarà un cambio in corsa o meno, però ecco, ti dico... Ti faccio questa domanda a tutte e due, anzi, a tutti e tre. Un nome che si è fatto era quello di Gersetti, no? È quello di Gersetti, in una situazione particolare con Reggio Calabria, doveva essere tagliato, domenica ha giocato perché Freeman non stava ancora bene, quindi era out. Questa settimana vedremo come si alzeranno a Reggio Calabria, visto che ogni settimana arrivano delle grandi novità, arriva allo stretto. Quel tipo di giocatore in questo momento in attesa poi di fare delle valutazioni più approfondite sull'americano, che non è Tyler Smith ma è Keon Moore, quindi magari cogliere eventuali opportunità che arrivano da tagli della 1, da tagli dello stesso campionato, da passaportati, questo credo che sia un discorso che potrebbe essere spostato cronologicamente più avanti di qualche settimana. Però un giocatore come Gersetti, come diceva prima Diego, di esperienza, di garra, serve a questa squadra, punto di domanda? Io la mia risposta ce l'ho ed è sì, con tutto rispetto a quelli che ci sono, però serve come il pane. Potrebbe servire come no, nel senso integrare sempre un nuovo giocatore a metà stagione può far del bene ma come può alterare dei meccanismi di equilibrio già stabili e quindi creare ancora più difficoltà. Non ho una risposta a questo, naturalmente Gersetti è un giocatore di esperienza, proprio prima diciamo che forse in questa squadra può mancare esperienza, non so darti una risposta ben precisa, anche perché ti dico, forse sono un po' esterno a queste cose perché il mio compito è lavorare sul campo. Poi andiamo ad esaminare la situazione, tra l'altro c'è anche Kobe Bryant che dovrebbe ritirarsi a fine stagione, magari... Lui potrebbe essere un problema di gestione, visto gli acciacchi che ha, però magari... Potrebbe essere una sfida interessante lavorativamente parlando per te. Potrebbe essere una sfida interessante. L'ultimo preparatore avuto da Kobe Bryant che fa la biografia, my favorite personal trainer è Eros Biagioli, come la vedi nel libro di Bryant, il capitolo finale dedicato a Eros Biagioli. Potrebbe essere una sfida per entrambi, anche per Kobe. Su Gersetti o su un giocatore di quel tipo? Visti i risultati, visti come se l'è giocata nell'ultimo mese, direi che le scelte societarie al momento di stare, non dico immobili, ma vigili e attenti e comunque sia di non intervenire in modo così inappropriato o veloce, ci sta. Quindi adesso ci sono due periti in casa, io toglierei l'attenzione su quello che è il mercato, questo parlare qua, concentrerei su queste due sfide importantissime e fondamentali e poi dopo si può, una partita alla volta, ma visto che ce ne sono due in casa, magari anche dopo queste due partite uno può fare delle valutazioni sia a livello societario che a livello tecnico serenamente. Anche perché come dice il mio amico Bag, passa un altro mese, il mese di dicembre, quindi eventualmente l'inserimento lo devi spalmare su quattro mesi e non cinque, quindi anche a livello di pecunia, a livello economico cambia, anche se dobbiamo dire per onestà intellettuale che nel corso dell'ultima intervista di due settimane fa, proprio Magro, a precisa domanda, aveva risposto che Gersetti è un giocatore che sicuramente potrebbe far fare un salto di qualità alla squadra, che la società è vigile sul mercato e attenta ad andare eventualmente ad inserire le pedine che bene si integrerebbero nel progetto tecnico e nello spogliatoio rosso-verde. Facciamo una cosa, andiamo a darci l'MVP di giornata e il punto sul campionato, anche perché le pagelle questa settimana, non avendo visto io la partita nemmeno su LNP TV perché ero impegnato, non possiamo farlo, quindi ci vediamo l'MVP di giornata e il punto sul campionato. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Una sola squadra alla comando della serie A2. è Scafatti che batte nello scontro alla vertice nettamente con una grande ripresa 92-72 Tortona. La squadra campana stacca i cugini di Agropoli battuti nettamente alla palaestra da una mensana protagonista di un secondo quarto da stropicciarsi gli occhi, chiuso sul parziale record di 38-9. Negli altri match di alta classifica continua a vincere davanti alla proprio pubblico la Lighthouse Conard Trapani che supera nettamente 98-82, Biella che lontano dai propri tifosi si conferma squadra materasso. Tegola in apportante per il rosso-blui ne ha fatti, si è infortunato in settimana Simone Pieric che ne avrà per almeno 40 giorni e sarà dunque fuori anche nella derby di Santo Stefano contro la Paffoni. Uno straordinario Andrea Saccaggi, autore di 35 punti con 6 su 8 dall'arco del 6-75, è il protagonista assoluto del blitz esterno della Moncada Grigento che torna dunque a vincere 90-85 sul parquet di una Latina e ne invece riduce da tre sconfitte consecutive. In un altro sconto di alta classifica, colpo esterno della Novi Più Casale Monferrato che vince largamente 73-52 sulla parquet della FMC Ferentino, priva del proprio totem sotto i tabelloni Giglio. Assigieco Cosa Pusterlengo si fa travolgere in casa 77-58 dalla Bermet Reggio Calabria che torna dunque a vincere dopo ben sei sconfitte consecutive. Non l'ha presa benissima Franco Curione, patrone dell'assigieco che ha ordinato ai suoi l'allunamento questa mattina alle ore 7. In fine nello scontro salvezza, vittoria 78-73 della nuova palacanestro Rieti che ha piegato la briosa Barcellona alla sesta sconfitta consecutiva. Dunque, l'hai introdotto prima il tema e voglio approfondirlo adesso Eros, anche sul tuo di lavoro. La mia impressione, correggimi se sbaglia, è che qualcosa sia cambiato nella gestione della squadra anche dal punto di vista atletico quest'anno. Punto di domanda? Sì, abbiamo cambiato molto ma secondo me tutto nasce da un processo di crescita e di conoscenza. Naturalmente lavorando a stretto contatto con Ale da più di un anno e conoscendo le sue necessità siamo riusciti fino ad oggi a gestire in una certa maniera il lavoro cercando di mettere dentro tutte le necessità sia della parte tecnica che della parte mia, fisica. Quindi abbiamo trovato un giusto bilanciamento che oggi ci sta dando dei vantaggi. La mia sensazione è che anche nelle ultime due partite è che dal terzo e quarto in poi anche a Roma noi ne avessimo comunque qualcosina in più rispetto agli altri. E questo secondo me è un'idea che è data dal lavoro che abbiamo fatto e svolto in questo periodo. Ora dobbiamo solo continuare su questa strada. Vi faccio questa domanda. Sei punti in classifica frutto di tre vittorie indiscutibili, no? Potevano essere 8-10. Quindi è un rammarico, è un qualcosa che fa stare ottimisti, cioè prevale l'ottimismo in questo caso o il rammarico a tutti e due? Allora, ti dico, probabilmente in una parte inconscia di me c'è del rammarico. Però sono sempre volto all'ottimismo perché questo mi fa ben sperare per il proseguo. Mentre all'inizio del campionato eravamo un pochino con l'acqua alla gola perché sembrava che avessimo un gap da colmare troppo grande, oggi questo sembra un ricordo lontano e diciamo per chi lavora come noi sul campo può far solo che sperare in positivo. Poi volevo aggiungere una cosa prima. Anche secondo me il rammarico c'è perché alla fine secondo me potevamo avere quattro punti in più vista la sconfitta con Roma e quella con Scafati che abbiamo discusso prima. Ma più anche che il rammarico possiamo essere anche ottimisti come ha detto Eros e continuare a non buttarci giù e lavorare, continuare a lavorare insieme stando uniti e vedremo che nonostante tutto i risultati spero arriveranno. Quello che volevo dire, poi lo chiedo magari, faccio commentare a Fabrizio questa mia frase, è che è oggettivo il fatto che nonostante il rendimento insufficiente nell'ultimo mese da parte di un americano e sappiamo quanto gli americani siano determinanti nell'equilibrio di questo campionato e di ogni squadra, nonostante il rendimento insufficiente di un americano, questa squadra ha vinto tre partite, ha sfiorato altre due vittorie e probabilmente le avrebbe anche meritate, soprattutto quella contro Scafati, con Roma è stata una rincorsa, Roma è stata quasi sempre avanti nel punteggio, contro Scafati è stato veramente un furto. Questo per dire che effettivamente questa parola lavoro, che è molto rindondante nelle dichiarazioni di tutti, di Magro e anche degli stessi giocatori, evidentemente ha portato dei frutti, perché se all'inizio dell'anno, dopo cinque partite, il divario con il resto del campionato sembrava enorme, adesso la mia sensazione anche personale, dopo aver visto tutte queste partite, è che se la si giochi alla pari veramente con tutti, cioè Scafati ha perso una partita contro Agropoli, ma la partita che ha fatto più fatica nelle ultime sette è stata proprio quella contro Appaffoni a Verbagna, e quindi bisogna anche riconoscere i meriti di Magro e dello staff che, oltre che dei giocatori, hanno compiuto dei passi in avanti, forse sorprendenti in un arco temporale così breve, perché stiamo parlando di un mese o un mese e mezzo, cioè questo è oggettivo, no? Diamo a Cesare qualche di Cesare. Sì, questo ti dico, secondo me, anche grazie alla società che ci ha permesso di lavorare con tranquillità, perché poi noi sapevamo che probabilmente sarebbe stato dura l'inizio del campionato, anche in previsione del calendario, che diciamo non era dei più semplici, e oggi il lavoro fatto con una certa qualità ci ha portato a ridurre quel gap che all'inizio sembrava incolmabile. Diego, poi Fabri. Ma anche io, come ero, penso allo stesso, ultimamente nell'ultimo mese, nonostante diversi azzacchi che abbiamo avuto, tra cui a livello americano, Guro, Casella, un po' non dico tutti, però abbiamo continuato a lavorare, lavorare e alla fine anche magari qualche sconfitta, immeritata o immeritata, anche con Scaffati, che nonostante tutto è una buona squadra, che anzi è una buona squadra sì, visto che ha un baspicato a diventare, ad arrivare in Serie A, ma secondo me è così, dai. Fabri? Ma io direi che tutto l'insieme, ricordiamoci che comunque a pochi giorni dall'inizio del campionato un americano non è venuto e quindi si è andato a prendere un altro. L'inserimento comunque di questo giocatore è stato abbastanza fondamentale, perché sotto canestro la coperta era estremamente corta con solo Iannuzzi e i due giovani Vildera e Galmarini, quindi diciamo che lì un pochino è stato pagato un po' d'azio. Il calendario, come ha detto Eros, le prime cinque partite, non dico che erano proibitive, però erano tre trasferte e in casa contro Scaffati Reggio Calabria, che magari Reggio Calabria se la trovavi tre settimane dopo, era tutta un'altra storia. è stato tutto l'insieme e poi prendere magari degli schiaffi sonori e non perdere all'ultimo secondo o perdere di cinque, ha fatto crescere magari questa voglia di lavorare in palestra e poi la domenica o il sabato dare la continuità per tutti i 40 minuti e non magari alzare le mani dal manubrio e poi magari, come ha fatto Roma, non so se era un calo fisico o mentale o di cosa, però a momenti perdono la partita perché magari non hanno giocato più sulla continuità dei 40 minuti. Quanto è stato anche importante, chiedo a tutte e due, prima tu Diego, il fatto che magari Alessandro abbia anche un pochettino allungato la rotazione, cioè nel senso che nelle prime quattro o cinque partite si girava sette con Tupper, problemi fisici e Galmarini che collezionavate tanti NE, nell'ultimo mese invece tu Domeca si è partito in quintetto, Galmarini ha avuto il suo spazio, insomma le rotazioni si sono allungate e nella crescita di una squadra, nella presa di coscienza delle sue possibilità, nella consapevolezza, ma credo anche nel formare un gruppo, se responsabilizzi un po' tutti, poi preso atto dell'identità di questa squadra che non ha 2-3 giocatori di riferimento assoluti, che quindi devono giocare 40 minuti e prendersi 30 tiri, non ci sono, quindi proprio per questo motivo magari responsabilizzare un pochettino di più tutti è stata, forse questa è la chiave di volta del cambiamento. Sì, secondo me è giusto, sono contento che Ale abbia allungato le rotazioni, anche se all'inizio magari io, Galmarini e lo stesso Wilde non giocavamo magari di meno, anzi qualche volta non entrava neanche, durante l'anno, cioè durante gli allenamenti continuando a allenarci duro, abbiamo dimostrato che in campo ci potevano stare, poi ovviamente non pretendevo di giocare gli ultimi minuti, però magari dare qualche spazio, qualche minuto di riposo a un titolare, un americano, che magari arrivava alla fine più lucido. Eros? Ritorno sull'idea che questa squadra abbia bisogno di tutti, cioè che non può prescindere da solo alcuni giocatori, ma che abbia necessità di un collettivo. Allora questo ha fatto sì che tutto sia andato in maniera diversa e sia cresciuto anche il livello, poi in allenamento, perché anche trovarsi in nuovi sistemi di lavoro, di gioco non è mai semplice, soprattutto per dei giovani che devono riadattarsi e questo percorso che stiamo facendo oggi sta fruttando, con quattro punti in meno, ma sta fruttando. Sono d'accordissimo. Fabrizio, ci vediamo il servizio relativo invece alla vittoria della Mami e poi discutiamo di questi due punti davvero fondamentali. Il servizio sulla Mami. Una canesto di resca a pochi secondi dalla fine consegna alla Mami una vittoria importantissima, 68-66 contro i Crabbs Rimini, una delle nobili decadute di questo campionato di Serie B. Due punti davvero importanti per il morale e soprattutto per la classifica della Mami che sale a quota 6 staccando il lacus Torino, fermo a 2 e prossimo avversario della Mami e mettendo nel mirino allo stesso tempo Bottegone che di punti in classifica invece ne ha 8. La partita contro Rimini è stata una partita in cui la Mami ha sempre tenuto saldamente in mano le redditi del gioco fino a pochi minuti dalla fine. Nel primo quarto in affatti i Biancorossi conducono 24 a 18 mettendo in mostra ottime soluzioni offensive con Federico Ferrari che chiuderà a quota 17 con 3 su 7 da 2 e 3 su 7 da 3. Il margine di vantaggio rimane inalterato nel corso del secondo periodo. In effatti all'intervallo la Mami conserva 6 punti di margine sullo 42 a 36. I punti di vantaggio diventano 7 nel corso del terzo o quarto anche perché la Mami gioca bene soprattutto in difesa non concedendo tiri facili agli avversari che hanno le polveri bagnate soprattutto negli uomini di punta in particolare Tassinari e Foyera. Grande esperienza per questa coppia che chiuderanno con soli 6 punti complessivi all'attivo. Poi come dicevamo nel corso dell'ultimo periodo forse per un po' di paura, forse per un po' di stanchezza la Mami presta il fianco al prepotente ritorno di Rimini che quando mancano due minuti alla termine mette anche il naso avanti il protagonista. Nella finale diventa Andrea Resca. Prima il canestro della pareggio, poi il canestro della vittoria per l'ex play di Uragna e Paffoni che chiude con 13 punti, 6 su 13 alla tiro, 3 rimbalzi e 3 assist. Già detto dei 17 di Ferrari, buona la partita anche del lungo paesano con 4 su 6 dalla media distanza e 9 rimbalzi. Per gli ospiti invece 15 punti dell'ex Agropoli Romano e 14 di Panzini. Dunque abbiamo visto le immagini relative al successo del nostro Loris Penoni. Fabrizio, una vittoria che chiaramente vi mette in condizioni psicologiche diverse rispetto a 7 giorni fa perché domenica c'è una partita da vincere contro il Custolino, poi un'altra partita casalinga e chiudere a 10 punti di girona in andata rispetto a chiuderlo a 6 fa tutta la differenza del mondo posto che la rincorsa per evitare i play out è comunque difficile e complicata. Sì, guardiamo anche noi una partita alla volta, adesso sabato abbiamo quella col Cus che è da vincere, punto. Dopo abbiamo un'altra gara in casa e poi dopo il calendario diciamo così ci manda a Piacenza e quindi lì è un pochino più difficile. Però noi ti ripeto giochiamo una partita alla volta, anche questa qua con Rimini venivamo da una settimana abbastanza tribolata agli allenamenti perché si erano fermati sia Resca che Coviello ancora Resca durante la partita su un palleggere se tiro è caduto sulla gamba di Tassinari e è dovuto uscire a mettere ghiaccio, è stato fuori, ha provato per rientrare, è rientrato e grazie a Dio ha fatto anche il canestro decisivo, i 4 punti finali e quindi Rimini è stata abbastanza ostica perché noi non siamo stati bravi ad allungare e comunque sia a chiudere la partita prima del 35esimo ma tenevamo quasi sempre linea di galleggiamento, loro comunque riuscivano a galleggiare in un distacco che uscillava intorno ai 10 punti, nell'ultimo quarto vuoi questo problema di Resca vuoi magari questa zona che con insistenza continuavano a proporre loro questa 3-2 noi non eravamo bravi ad attaccarla con i passaggi ma magari facevamo i palleggi contro la zona è quasi un suicidio, però la difesa ha tenuto perché comunque gli hanno tenuti a 66 punti in casa e nei possessi decisivi sia magari due scelte sbagliate loro o comunque sia due nostre difese siamo riusciti ad andare a rimbalzo a fare bene e tagliarli a fuori e poi a 5 secondi loro c'è stata della mancata comunicazione su un cambio sui blocchi e Andrea ha preso il tiro e l'ha segnato Domanda facile o difficile però diretta, cosa ha dato in più Vescovi a tutto l'ambiente pur sempre con il rispetto di chi c'era prima ma non è dare qualcosa in più, sicuramente diciamo così ci si è presi molto meno sul serio e si è liberato un pochino la mente che alla fine è un gioco, noi giochiamo a pallacanestro non salviamo vite e quindi diciamo così un pochino più di spensieratezza che serve no? ma io sono dell'idea di prendersi sul serio quando si è in campo, quando ci si allena, quando si è in quel rettangolo poi magari fuori o comunque sia il rapporto che deve esserci tra i giocatori e lo stesso staff o tra i giocatori e il tecnico, penso che un normale rapporto d'amicizia e rispetto è più che sufficiente prima di andare a vedere servizio e interviste anche di Domo su questo aspetto qui che evidenziava Fabrizio a che punto è la costruzione del gruppo alla Paffoni e lo so poi magari tra il più uno specifico Diego? secondo me il gruppo oggi è a un buon livello abbiamo due ragazzi che hanno una bella amalgama, non c'è nessuno che si tira mai indietro queste sono belle sensazioni e soprattutto la cosa più bella è secondo me che questi ragazzi ogni volta che entrano in palestra non si tirano mai indietro sono... anzi anzi, anzi nella mia... posso fare nel mio campo anche per me è stimolante lavorare con loro perché sono ragazzi che mi chiedono sempre come migliorare questo per me è vita come miglioriamo allora io e Fabrizio Lorenzi in vista delle feste di Natale? faremo dei test magari più approfonditi la prossima volta Diego? ma io da quando sono arrivato qua avevo già capito che il gruppo sarebbe stato ottimo anche perché siamo tutti giovani e quindi non può essere altro alla fine andando avanti mese in mese mi ero sempre più convinto che all'interno di questa squadra ci poteva essere qualcosa di veramente grande abbiamo tutti la stessa voglia di far bene, di migliorare e quindi le sensazioni qua possono solo che positive riguardo al gruppo prima di riederci come ripeto prima in servizio e interviste di Domo voglio farvi questa domanda la classifica dice che ci ha scaffati in fuga poi ci sono Agropoli, Casale, Tortona e via discorrendo l'ottavo posto a 10 punti Barcellona a 4 punti e ultima c'è Biella che è alle prese con le infortuni di Piedis comunque starà fuori per almeno altre 4 partite tra cui il derby di Santo Stefano attesissimo contro la Paffoni su chi si può fare la corsa? io una mia idea ce l'ho guarda ti posso dire che non ho idee nel senso perché poi alla fine quello che secondo me noi stiamo facendo è di ragionare solo su noi stessi su quali sono le nostre vere forze e quello che possiamo dare ogni domenica poi nel proseguo di questo campionato man mano che andremo avanti vedremo con chi nel finale dovremo fare diciamo fare la corsa oggi stiamo costruendo questo gruppo e speriamo di fra un mese di non dover pensare a fare la corsa su nessuno ma anzi che gli altri devono fare la corsa su noi ecco vabbè ci vediamo la Polioposti quarta vittoria consecutiva settima vittoria su 8 partite in campionato per la Polioposti Cipir Domodossola che si imposta 81 a 55 contro Fossano un'altra grande prestazione da parte degli uomini di Alessio Fioravanti che hanno ottenuto un'altra importante vittoria davanti a un grande pubblico hanno vinto di 26 contro una squadra giovane contro una squadra meno esperta rispetto alle altre che sono arrivate qui a Domodossola ma comunque una vittoria importante per continuare questo sogno per continuare a rimanere da soli in vetta siamo contenti perché comunque abbiamo molto seguito il tifo è molto caloroso quindi noi abbiamo fatto contenti loro però ci siamo fatti anche contenti noi perché comunque queste partite qui hanno molte inside lo dimostra anche la partita con Alessandra che abbiamo perso in casa stavolta abbiamo imparato la lezione siamo stati bravi a essere concentrati per 40 minuti a portare la partita a casa è stata una partita che diciamo è andata nel solo vostro senso però siete stati come ha detto lei bravi a portarla in quel senso non è mai facile? no non è mai facile io mi aspettavo che gli ultimi due quarti avendo già messo la partita in ghiaccio nei primi due ci fosse un calo di ritmo preferirei che non ci fossero però è anche normale allarghi le rotazioni poi è chiaro che non puoi pretendere 40 minuti la stessa intensità ora noi però bisogna essere bravi perché le prossime due avremo due partite che vanno giocate per 40 minuti e quindi ci alleneremo per quello la giusta mentalità per proseguire questo sogno perché siete in altissimo in classifica avete ottenuto anche grandi risultati fino a qui siamo primi da soli manca tre giornate alla fine di giornata è chiaro che ora l'obiettivo diventa provare ad andare alla Coppa Italia che ci andrà la prima abbiamo le due partite con Alba e Crocetta che saranno decisive e quindi niente siamo in corsa cioè siamo in ballo e balliamo una grandissima prestazione una vittoria straordinaria anche stasera sì abbiamo fatto un'ottima partita abbiamo giocato tutti bene e devo ringraziare il pubblico perché ci dà una grossa mano in casa e ci dobbiamo preparare al meglio per le ultime tre partite del genere di andata che saranno tre partite una più difficile di quell'altra sono contento finora di quello che abbiamo fatto dispiace aver perso in casa una partita però purtroppo è andata male e niente dobbiamo continuare a lavorare duro per arrivare ai tre guardi che ci siamo prefissati è assomigliata molto questa partita a quella di due settimane fa contro Serravalle sempre qui con un'ampia vittoria anche oggi era un po' diverso diciamo questa squadra di oggi erano più giovani Serravalle aveva degli elementi di esperienza di un certo calibro diciamo della categoria e quindi Serravalle secondo me l'abbiamo giocato molto meglio noi l'abbiamo preparata molto bene la partita contro Serravalle oggi abbiamo giocato bene lo stesso però diciamo che che comunque sulla carta erano inferiori questa squadra rispetto a Serravalle guardiamo allora oltre guardiamo al prossimo fine settimana tra l'altro con la Polioposti che va a giocare ad Alba una partita importante per il primato impaglio proprio il primo posto nel girone per questa squadra che è stata costruita per per centrare il salto di categoria e direi che le ultime partite hanno dimostrato il valore della squadra di Alessio Fioravanti che non solo vince convince e stravince anche nel punteggio abbiamo detto doppio turno casalingo consecutivo prima Rieti e poi Agropoli l'obiettivo non può che essere quello di fare quattro punti per andare tranquilli poi a Ferentino di venerdì sera ed affrontare Biella il 26 dicembre Diego ed Eros Sì finalmente si ritorna in casa abbiamo due partite sicuramente importanti che si spera si porti in a casa i quattro punti la prima partita è con Rieti che come detto prima è una squadra candidata che magari può lottarsi la salvezza con noi e quindi magari può essere un po' più abbordabile poi dopo abbiamo lo stile Agropoli che è la sorpresa del campionato che nessuno pensava che facesse un campionato così buono e quindi diciamo l'obiettivo è portare a casa i quattro punti e poi continuare a vedere dopo a Ferentino di fare perlomeno una buona partita Poi la differenza la fanno anche gli episodi Casale va a Ferentino Ferentino è senza Gigli e diventa un pochettino più semplice per Casale vincere la partita con pieno melto Reggio Calabria come diceva giustamente prima Fabrizio ha giocato un mese e mezzo un mese senza Freeman e ha preso le scopole tra l'altro stamattina allenamento alle 7 del mattino di Franco Curione in Casal Posterlengo dopo il meno 20 in casa con Reggio Calabria provvedimento abbastanza strano perché tutto sommato Casal Posterlengo sta facendo un ottimo campionato quindi mi ha lasciato abbastanza perplesso questo questo allenamento alle 7 del mattino se si perde con Rieti alle 5 allora posso non commentare? alle 5 contro Rieti non diamo strani idee non diamo strani idee bisogna vincere sabato bisogna vincere soprattutto perché la nostra salvezza secondo me parte dalle vittorie in casa noi dobbiamo costruire la nostra salvezza in casa altrimenti diventa veramente dura è chiaro che poi chiudiamo con Fabrizio sul CUS la differenza è proprio quello che stavi dicendo in questa media inglese chiamiamo la media inglese a Pafoni in questo momento solo a meno 1 che è una media inglese positiva se chiudesse a meno 1 credo che arriverebbe assolutamente la salvezza perché vorrebbe dire chiudere a 28 punti e quindi con 28 punti probabilmente fai anche i playoff credo quindi cioè Rieti ha una grande classifica 12 punti mi sembrasi 12 punti ma ha giocato di queste 9 partite l'ho detto di queste 10 partite ne ha giocate 6 o 7 addirittura in casa a 0 in media inglese è questo che fa la differenza Pafoni ha giocato due partite in più in trasferta rispetto a Rieti e fa tutta la differenza del mondo questo fa differenza questo fa differenza Fabrizio bisogna vincere sabato poco da dire ci metti già pressione no sì è una partita che andiamo ad affrontare sperando che resca la caviglia non abbia nulla di grave comunque una distorsione c'è stata speriamo sia leggera farà terapia e quant'altro sabato dobbiamo assolutamente cercare di portare a casa i due punti dare continuità a questa vittoria con Rimini e presentarci magari alla sfida con Livorno con questa mini serie di due vittorie consecutive che per noi sarebbe importante anche a livello di fiducia e di quello che poi la domenica dare la continuità su tutti i 40 minuti non come magari è stato fatto fino alla partita prima di Rimini perché anche non dimentichiamolo anche a 100 a Piombino le due trasferte che abbiamo fatto consecutive fino al ventesimo addirittura eravamo anche in vantaggio giocando una buona palla canestro e mettendo in difficoltà gli avversari poi negli ultimi 20 minuti invece più che a livello fisico è stata proprio una cosa mentale secondo me ecco dobbiamo cercare di portare a casa i due punti con Torino e dare continuità in trasferta per tutti i 40 minuti ok prima di dirci l'ultimo servizio dedicato al punto di Arona con la DNG le immagini della partita di ieri sera contro Casali io ringrazio Fabrizio Lorenzi grazie Fabri grazie a tutti buona serata grazie a Diego Terenzi grazie a Diego grazie a Rosbiagioli ciao a tutti baschettando torna non martedì prossimo perché l'immacolato 8 dicembre quindi giornata di festa per tutti il 15 di dicembre adesso il punto sul Giovanni di Arona ieri sera l'Under 20 DNG è stata sconfitta tra le mura del Viking Garden contro i pari età di Casale e Monferrato che si sono imposti con il risultato finale di 47-65 Crusca 13 Zanoli 12 Gallinari 11 sconfitta a Casalinga anche per la formazione Under 18 nel campionato regionale con i ragazzi di Coccavagna battuti a domicilio da Galliate 54-79 Rossi 19 Gnagneri 12 Paolucci 10 gara dal basso punteggio per gli Under 16 di Montani che non senza difficoltà sono riusciti con merito a imporsi 48-43 Rossi 9 Giordano 8 su Cossato troppo sprecona l'Under 15 eccellenza che in casa contro Grugliasco getta le ortiche un vantaggio di 14 punti a 4 minuti dalla fine e viene sconfitta 62-65 Cusciova 23 Benessaraui 13 partita senza storia per l'Under 14 regionale di Coccio Romerio che perde 29-110 Leveni 6 Brancato 6 contro una game troppo superiore sul piano fisico e tecnico dopo essere stata in partita per quasi 30 minuti l'Under 13 elite smette di giocare e fa scappare Via Gagliate che si impone con il punteggio di 33-68 Leveni 10 turno di riposo in questo weekend per la prima squadra nel campionato di Serie C Silver per la prima squadra per la prima squadra